Ha fatto il giro del web ma anche diviso, esperti e non solo, la foto scattata da Marco Confortola che sembra ritrarre un'alba boreale alle nostre latitudini. Loris Lazzati, cosa ne pensi di questo scatto? Secondo te è plausibile che si tratti di un'alba o di un'aurora boreale? Comincio col dire che è del tutto perdonabile se si è cascato in errore. Di primo acchito anche gli esperti, anche gli astrofili ho compreso, di primo acchito detto caspita, può essere. Analizzando bene la foto e alcuni elementi di contorno si capisce che è un effetto probabilmente dell'alba o del tramonto più classico dovuto a rifrazione di luce solare. Non è un'aurora boreale per una serie di motivi. L'aurora boreale ha come colori prevalenti, quasi esclusivi, il verde e il rosso che sono provocati dall'emissione dell'ossigeno e l'azzurro che è provocato dall'emissione dell'azoto. Qui ha dei colori gialli, rosa che non sono tipici dell'aurora. Altro motivo, se fosse stata vista, io capisco che Confortola sia stato colpito da questa immagine, abbia fatto una bellissima foto, quindi non ha nessuna colpa Marco, cominciamo a dire questo. Però se fosse stata un'aurora boreale sarebbe stata rilevata da molti astrofili, astronomi, se ne sarebbe parlato in Europa, penso. C'è un esempio abbastanza recente, di vent'anni fa, di un'aurora boreale ripresa dalle nostre latitudini, da tradate per la precisione, da Cesare Guaita, grande astrofilo. Se voi confrontate quella foto con quella di Confortola, vedete nettamente la differenza dei colori. Il terzo elemento è l'attività solare. Siccome le aurori dipendono da quella, in questi giorni, questo può aver ingannato, perché il sole è molto attivo in questi giorni, però non c'erano tempeste magnetiche così potenti, brillamenti solari così potenti, da giustificare un'aurora alle nostre latitudini, il che non significa che sia impossibile. È piuttosto improbabile, ma è possibile. Ricordiamo, questa settimana è partita la tua trasmissione su UnicaTV, Star Break. Parlerai anche di questi fenomeni? A questo punto sì, ben presto ne parleremo, anche perché il sole si avvia verso una fase sempre più attiva. Quindi chissà che la sorpresa di vent'anni fa si ripeta davvero.